Queste panchine pulite o sporche? Sporche, sporche. Ma queste le abbiamo pulite noi. Cittadini e frequentatori di piazza Gramsci a Giuliano ha lavoro per ripulire le panchine. Come? Abbiamo impiegato? La roba di no. E le abbiamo pulite, pulite. Che stacca? Ma è l'acqua per te. Ti capisci? Abbiamo fatto tutte le cose buone. Con la pulce intorno, sempre. Detergenti e stracce alla mano e via a ripulire l'arrido urbano. Non erano usati 100.000 volte, perciò la gente è giugnata, pulisce, dopo 5 minuti si può con un'altra volta. Dopo le panchine hanno scritto. Abbiamo spesso denunciato scritte su muri e sulle panchine in piazza Gramsci, una delle più frequentate della città. Ma un gruppo di assidui frequentatori ha deciso di ripulire tutto per quanto possibile. Per usufruire nel miglior modo possibile di un bene pubblico, nonostante la pulizia ordinaria e straordinaria aspetterebbe al comune. E se da un lato ci sono cittadini a cui sta a cuore il bene pubblico, dall'altro c'è sempre chi imbarba al buon costume, alle regole della civiltà, continua ad imbrattare e a sporcare.